Musica Musica Oh nanananana Musica 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 3 2 1 Buongiorno ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornate qui Con un nuovissimo vlog Questo vlog si tratta di un bellissimo vlog Perché come ci vedete Siamo in pigiama Perché oggi È carnevale No è parte di grasso Vabbè è carnevale E quindi ci siamo travestiti Io da unicornio e Giulia da coniglio Quindi Giulia siamo pronte? Camminiamo No Ragazzi e Giulia ci siamo vestite Giulia E ora Abbiamo comprato Anche una bomboletta Le stelle filanti Io l'ho comprata verde Io ragazzi ho comprato le stelle filanti verdi Quelle viola E quindi ora le spezzeremo un pochettino a caso E vedremo a cosa succederà Vero? E quindi niente Ora andiamoci Andiamo in Carmen Ciao 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 Sì Ciao sono musica lì che stai facendo Giulia Margher e tu perché non lo fai non ti piace preferisci vuoi fare i video youtube? si? fatto? io faccio così e fai riprendercelo di qua vedi non caderci ragazzi stiamo in giro cioè stiamo a capola e ci siamo divertenti un sacco ora abbiamo visto il corteo del re carnevale ora invece andiamo in piazza e andiamo a vedere ora andiamo in piazza e andiamo a vedere vabbè andiamo ci sono le bancarelle le giostre quindi ci facciamo un bel giro lì e a parte voi stasera la bambina mi sa di sparare io l'ho fatta vedere e io si è girata Giulia si è spogliata grazie a tutti 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 scegli bene scegli bene eccolo qua ora vediamo che vi vedi pesciolino pesciolino 63 o pesciolino o la sorpresina o la sorpresina o la sorpresina e cos'è se è la sorpresina giocattolini no giocattolini no no pesciolino pesciolino dai Giulia allora hai fatto questa pesca magica Allora come è stato? Bello ma io aspettavo il coniglietto Il coniglietto? Sì Eh sì e te lo davano a te il coniglietto Fai vedere che personale hai scelto Però io anche sono te Ne ricorda lì? Fa vedere Fa vedere Oddio che schifo Ma guarda che ciappuccio Prima ragazzi stavano arrivando tutti i coriandoli da terra Stavano arrivando tutti Stavano arrivando le scarpe dappertutto Una tempesta stava per arrivare Ma per fortuna non è arrivata Ma è bene Ora andiamo Poi anche i dolci Un attimo in macchina Poi torniamo e ci facciamo un altro giro Giulia le bombolette Ciao aspetta un attimo Caccia la lingua Ciao aspetta un attimo Ciao aspetta un attimo Ciao aspetta un attimo Ciao Oddio La mia vita è realizzata Però devi pubblicare Pubblica un atto, vediamo Vediamo un po' Allora ragazzi È stata bellissima E abbiamo mangiato tantissimo Ragazzi Oggi è veramente piatto Ripeto, era il mattino di classe Quindi una cosa tirava dopo un'altra Cioè ragazzi Per forza E ora io ho finito di mandare Il zucchero filato Quindi 3 2 1 Go Quindi ragazzi, questo è il blog Spero vi sia piaciuto A noi è piaciuto tantissimo Iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawaii Tutto il tuo marco 8 2 Marghe Giulia Kawaii Real Maggi TV Su musical Li piace la Marghe Giulia Real E se volete Le maglie, le cover, le tazze, i cuscini O tantissime altre cose Di tantissimi altri colori Andate su www.marghegiuliakawaii.it E ragazzi Ci siamo divertiti tantissimo Siamo andati sulle giostre Dappertutto Veramente È stato stupendo Quindi un carnevale Da favola E quindi Se il video vi è piaciuto Lasciate like Commentate E iscrivetevi al canale Se non vi è piaciuto Shhh E iscrivetevi al canale